La sesta vittoria esterna in stagione assomiglia tanto ad un déjà vu perché ai tifosi del Lanciano, ad Avellino o incollate davanti allo schermo di casa, sembra proprio di rivivere qualcosa già passato davanti ai loro occhi. Distrutta la formazione campana in metà primo tempo, dal 22esimo al 47esimo il Tris che piega le velleità di una formazione, quella di Massimo Rastelli che non può recriminare neppure sui forfè di Arini, già preventivato e di Zappacosta in extremis. Il Lanciano è una furia e dire che Baroni all'inizio sorprende tutti davvero, cambio di modulo e cambio di uomini in un colpo solo, lui affezionato al 4-3 trasforma la Virtus e la modella rispetto alle assenze. La tifoseria avellinese probabilmente all'inizio si illude, lo schema da piazzato però non premia Castaldo con qualche attimo di ritardo all'appuntamento con la sfera, cosa che invece non difetta ad Andrei Galabinov la girata del Burgalo in bello stile però non inquadra lo specchio della porta. E' solo un lampo quello di casa, nulla a che vedere con quello che riesce a Buchel al 22esimo. La sponda è di Comi ma lo slalom e soprattutto il sinistro è tutta roba sua, primo gol in campionato per l'Austriaco. Un talento cristallino che oggi da solo fa impazzire. L'undici di Rastelli perché al 27esimo quando la sponda stavolta la fa piccolo, che un gigante proprio non è, Il mediano è bravo ad approfittare della dormita di De Carli, il servizio intelligente all'indietro premia proprio Germano che crede all'azione e sigla anche lui il gol numero uno del suo torneo. Partita già in cassaforte, Buchel è indemoniato, prova una conclusione che è la fotocopia dello 0-1 stavolta però con meno precisione. Nel frattempo Paghera per un fallo su D'Angelo rimedia il primo giallo, non sarà l'unico ma l'undici di Baroni gioca sul velluto. La ripartenza è staffilata di Comi per poco, non abbattono per la terza volta la resistenza di Terracciano che però deve inchinarsi quando. Minuto 47 a pochi secondi dall'intervallo Buchel conclude un primo tempo da standing ovation vincendo il contrasto con Abero e servendo sulla testa di Amenta il più semplice dei palloni da spingere in fondo al sacco. Per Amenta il secondo gol all'Avellino, una vera e propria bestia nera per i biancoverdi. Rastelli le prova tutte, inserisce Ciano, Biancolino, toglie Togni ma di occasioni clamorose nemmeno l'ombra e infatti la rete della bandiera erpina arriva su un'azione insistita e in maniera anche abbastanza casuale. La sponda di Biancolino è per Gigi Castaldo che da pochi passi non sbaglia. L'Avellino vorrebbe provare a crederci anche solo per un attimo, il problema è che il Lanciano quando si difende con ordine è un muro pressoché invalicabile. Amenta è monumentale e il Rosso che nel finale saia sventola in faccia a Paghera, doppio giallo, e un piccolissimo neo in un pomeriggio quasi perfetto. Finisce in trionfo dopo lo squillo di Cittadella prima di Capodanno, torna il Lanciano micidiale lontano dal Biondi. 40 punte in classifica e un grazie grande così al Carpi che ferma l'Empoli e al Cesena che impatta col Palermo. Tutti risultati utilissimi, Baroni si sfrega le mani senza clamori eppur con qualche stop poco preventivabile. I rossoneri si prendono il terzo posto a meno due dal sogno proibito da quella seconda piazza che vuol dire Serie A.